e come vi dicevo nel video precedente questo video ha per oggetto l'abete rosso che è forse la conifera più diffusa sulle alpi su tutto l'arco alpino cresce ovviamente spontanea ma è stata in molte situazioni anche rimboschita perché comunque è un legno che cresce diciamo è una pianta che cresce piuttosto velocemente e quindi il legno viene utilizzato anche per tutta una serie di usi e quindi si fanno anche coltivazioni artificiali appunto nella situazione in cui mi trovo io chiaramente questo esemplare che vi sto mostrando è assolutamente spontaneo quindi nato autonomamente non piantato dall'uomo e è interessante perché io prima vi ho fatto vedere l'arice e vi ho parlato dell'ecologia dell'arice l'ecologia dell'abete rosso ha delle somiglianze ovviamente perché si tratta sempre di una conifera ma anche delle differenze in quanto se l'arice preferisce diciamo le medie e alte quote ed è una pianta eliofila quindi è particolarmente attratta da situazioni con molta luce e molto sole e generalmente gli esemplari di larice non crescono fitti fra di loro proprio perché non si vogliono togliere la luce vicenda questo discorso non si applica all'abete rosso in quanto è una pianta molto versatile che non ha particolari preferenze di suolo o di situazione infatti a volte le si trova anche in vallette completamente ombrose con pochissima luce solare e quindi molto versatile molto meno esigente dell'arice ma ha delle caratteristiche simili all'arice ovviamente essendo anch'essa una conifera quando si va a parlare della delle sue caratteristiche riproduttive quindi conifera lo dicevo già nel video precedente è una gimnosperma quindi pianta assieme nudo e quindi produce dei coni che sono quelli che poi noi chiamiamo volgarmente pigne questa pianta specificamente ecco sì ho visto anche una pigna dell'anno scorso adesso ve la faccio vedere vediamo se riesco a inquadrarla eccola qua eccola una bella pigna insomma di dimensioni abbastanza ragguardevoli che nell'abete rosso tende a trovarsi posta appunto in in una situazione in cui è pendente cioè quindi pende dal ramo rivolta verso il basso cosa che lo differenzia dall'abete bianco di cui poi parlerò in un altro video allora io volevo partire facendovi vedere la pigna dell'anno scorso che appunto è di dimensioni piuttosto notevoli ovviamente ora è secca non ha più semi semi sono stati rilasciati perché volevo farvi vedere per contro le pigne di quest'anno che sono ancora invece giovani non sono ancora giunte a maturazione e hanno un bellissimo colore rosso carminio notate comunque già perfettamente formate tutte le scaglie all'interno delle quali andranno poi a maturazione coppie di semi alati che verranno rilasciati più tardi nella stagione le pigne come già nell'arice diventano poi di un colore verde e solo quando ormai si avvicinano alla fine della loro fase diciamo di maturazione il ciclo vitale il ciclo riproduttivo è stato espletato diventano poi progressivamente marroni e si seccano e rimangono sulla pianta in maniera anche molto scenografica in questa specifica in questo specifico esemplare io riesco a farvi vedere ancora abbastanza bene anche il fiore maschile che tuttavia adesso ormai è secco eccolo qua questa piccola struttura qua era piena di polline che poi viene rilasciato come sembra una polvere giallina nel vento la cui unica funzione è come già nell'arice quella di andare a impollinare il fiore femminile che è quello che poi diventerà la pigna che adesso cerco di inquadrare nuovamente eccole qua grande differenza però ecco no volevo dire sono anche estremamente belle perché noi tendiamo a guardare gli alberi in modo un po univoco guardiamo spesso le fioriture magari siamo colpiti dai frutti ma tendiamo a ignorare tutte quelle fasi intermedie che sono altrettanto belle guardate qua ad esempio che bella compresenza c'è ancora di chiori spero si veda bene maschili secchi qua e femminili ovvero pigne già formate ma chiaramente ancora indietro a livello di maturazione adesso non so se si vede bene dal video ma sono di un colore rosso veramente stupefacente un rosso carminio tendente quasi al porpora al violetto molto bello quello che differenzia l'abete rosso principalmente dall'arice e che invece lo accomuna a tutte le altre conifere che noi abbiamo le nostre latitudini è il fatto che è una conifera come dire sempre verde come noi generalmente consideriamo le conifere perché di fatto la maggior parte di esse sono sempre verdi quindi mantengono le foglie gli aghi tutto l'anno ma in questo caso vedete anche la riproduzione delle foglie nuove di un verde molto più tenero e molto più molto più delicato diciamo ci sarebbero tante altre caratteristiche di cui parlare soprattutto in confronto con l'abete bianco ma mi riservo di fare questo in un video successivo e chiudo questo video con qualche immagine in più di questo bellissimo abete rosso forse non ho detto nel video precedentemente nome latino picea abies grazie